Eccoci qua, andiamo a fare la spesa, un'altra volta che mi filmo da fuori, capito? Vediamo che troviamo di bello, la bocca di Elnora Romagna, fino a ferirà un leone, e non si immagina, vedo i gli luoghi, ah, le puse il 30 di sinistro, però a tutti o no? Si, sembra a tutti, sembra a tutti. il 40 con la tarjeta del 10-3 del 13-3 al 19 19 es el martes no, perché si acabara este, qual que es? Acá tenes bloc no, bloc y bloc es el chocolate bloc no, è la marca perché c'è molto 3-3 è molto allà c'è meno vedi tutti tutti i 4 cacao è 60 è buono è buono 60 è buono 60 cacao è buono si, perché dicono che è più oscuro questo è questo è Ferrero Rocher dice l'interno si, la marca Ferrero Rocher il vicio il vicio non è male trae le mandolini è come che tommeno questo tanto per voi per avere grazie questo non so quanto marco vengantero ah qui è? a ver adentro almendras si quantos altra cosa mariposa questo per esempio il 85 di cacao e tutto aca è il 92 però lo compro il miarco e almeno tengo il 15% del suelto però mira acabiamo comprando vicio, no? e vicio aca non hai di chocolate suelto no allà ti hai i alfajores di questa marca alfapampa si e questo mi sembra che è negro rico 6 uniti negros alfajores di chocolate negros tendrì che dire quanto cacao mira il 50% del suelto si si come e quanto costava si no era 6.000 e pico si si la pampa alfapampa io te lo compre bueno compramos quanto cuesta il prezzo 3.225 compra 2.225 si perché non pudimos comprare perché vende il 224 non perché mi regalo aca per i chiquiti non anche anche un altro per noi si però sono confezioni che che questo blanco perché il negro ti ha più cacao però questo è blanco e lì tenes uno chiquito no te conviene aca este mira este tiene a este te gusta vos si de maizena tengo dos de maizena si alfajor es lleno de dulce de leche a ver este chocolate blanco son todos tomados los dos chocolate blanco alfajor y chocolate blanco si tomando dos como los dos este no este no me gusta bueno para no te compro dos esto ah bueno a ver cuando vence porque no te lo vas a poder con el 22 de abril no vamos a acabar antes yo quería saber una marca de chocolate para compararlo con el huevo para ver hasta qué punto el huevo es más caro la casa 70 hay que ver cuánto trae de chocolate y cuánto trae acá acá trae 100 gramos 450 pero claro eso tiene una elaboración y si si no además es el producto del momento por eso que ahora liquidan los alfajores sabes por qué porque compraron muchos huevos que los venden más caros entonces el alfajor no la gente no busca en este momento blanco gracias entonces te digo por eso que no es porque vencen ahora sino porque se quieren sacar dinero de ahí para reabastecerse de huevos de pascua cuando la pascua se acabará ponen en liquidación también eso son lindos se ven frescos ¿cuándo lo habrán hecho? porque digo en vez de cocinar le doy tres sándwiches para cada uno y si te conviene mañana viene lo llevo? y si hasta el gas te ahorras no porque acá no saben hay que poner en bolsas de papel el pan en Italia se pone en bolsas de papel ah mirá lo que hay para ellos te podría dar este que te cuesta mucho ¿qué cosa? los alfacones a veces el 50% de los clientes ah si y eso es de vendría no es son ricos lo comemos también nosotros le vencen 5 días también el blog mira está en liquidación si yo otra vez lo compré 15 de abril compré un blog este cuesta 4.290 si 4.390 en liquidación sería 8.000 porque es todo negro y el chocolate negro te hace llenar comer blanco y negro ¿qué es esto? es rico el chocolate blanco pero sabes que es un error llamarlo chocolate blanco no es chocolate tiene cacao y vainilla mira cuánta miel es como llamarle cortado a la leche manchada son dos cosas diferentes el cortado es un café cortado con leche parece que tiene azúcar la leche manchada es una leche no la puedo ver acá no hace la bola acá libre de gluten miel libre de gluten la toqué abajo y hay un depósito de azúcar ¿ves? hay depósito no no yo entiendo de miel me gustaría el chasco comprar este cuesta 3.50 está en oferta de 150 si de de 700 que costaba o azúcar orgánico o choclo sodio cero sodio cero a fin di mese vence ah no, 4 mesi sta bene no, perché io, per questo ti faccio questo prezio se lo sacano di cima perché vence per questo il 5-4 vence questo e è un aderezzo picante deshidratato a base di destrozza è mexicano bufalo orange dipping sauce non so che è del viernes questa le compri a los muchachos questa prezitita che sono di 475 e questo è questo è Grazie a tutti. 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 Amanda, hai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No ti dice la cafeina. Grazie a tutti. No, per... 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 E... E... Non so... E... E... ... Calma... E... ... E... E... ... ... ... E... ... ... ... ...... ... 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 ...... ... 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 x ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, hai capito, cari mia! Beh, adesso sospendo un po' la registrazione, mi sembra che viene troppo largo il video. Poi vediamo, ci vediamo dopo. Arrivedoci! Andandoci con caffè leche, e poi pensé, no, le compro una beviva, una cerveza, una fanta, no, cerveza no, no, le voglio comprare una fanta. Sì. Solo che una botella le dura un dia. Eh? Una botella le dura un dia. No, per il almorzo. Bueno, eh, le compras dos o tres, a ver si están en descuento, si es porque la fanta... A Alberto le gusta muchísimo esto, que él no toma vino, y yo le dije, Alberto, no venías, te compré las gaseosas y le tuve que dar a los muchachos. Mira, la Sprite está en descuento, que es buena. Sí, pero agua con azúcar. Y bueno, son todas aguas con azules. No, no, esta la fanta. No, esta la fanta. Sí, pero tú crees, está en descuento. Sí. Esta, de dos litros, para Alberto, así le dura. Quien sabe cuánta la vera, toda en un día. Haber un rendimiento, lo dice. Sí, tendrá que decirlo. Fanta naranja. Sí, pero de naranja... ¿Sabes que...? No tiene nada, es colorante. Acá está, mira cómo lo pone. Sí. Veinti... No leo... Acá, veinticuatro. Veintisiete... No, es una cruchada. Por eso es que está en descuento. Pero... Es mejor... La grandosa está en descuento. Sí, sí. Hay que leer mucho, el artículo, el peso... La grandota, la grandota. ¿Sabes por qué? Porque a la grandota prefiero dos chicas. Porque se maneja mejor. Esta de tres litros, dice. Eh... Tres litros. No se puede soportar. Pero... En 1920... De litro y medio. No hay de esta. Eh... Gaseosa fanta naranja. Dos litros... Más agua. Ah, sí. Saborizada. Acurios... Pera. Zingada. Yo cuando ponen así no sé comprar. No, acá... No sé, no sé. Allá dice... Una de una y otra de otra. Porque te dan... Jugos listos. Sin duda, la... La... La composición... Esta es la... La mejor... La masana, la masana. La masana, la masana. La masana, la masana. Gaseosa coca cola. Gaseosa jerks. Esta. ¿Cero? no, non è questa non le ponen il articolo perché se no io leo il numero però questa è un lintone aca non dice un lintone gaseosa Coca-Cola senza azucar acqua saporizzata, acquario, manzana io l'altro giorno andavo qua con una signora e le dice io in mia vita n'ava detto sono tutte le peteria questa villa del sud, mirate, non viene del cuento no, no, è questa il bottiglione gigante perché è uguale sì, è uguale però un po' meno un po' meno, però è sempre non hanno desconti le che fanno desconti sono qui non tutte, sì, guardate no, non, è qui è unicamente un po' enorme se vuoi comprare con desconti questo che dice questo che dice graziosa Schwepponi però dice due litri e medio questa non si acquario spera sì, è uguale anche pomelo sì, questo ci parecita pomelo sì, pomelo, è questo pomelo sì, però non è lo stesso perché che non sta in descuento, sta in descuento la che sta a 2.5 litri, si, si lo dice botella 2.5 litri, a ver se è, 2.25 litri, una per i ragazzi e una per il vero, perché viense in seguito, 7 di maggio, bene, bene, perfetto, e ora ci siamo. 3.000 con il descuento, ma sono 3.000. No, il 2008 con il descuento. Si non era 3.007. Viene le 2, 16, 5.006, le 2. Per questo, ora basta, abbiamo già. Perché? Cosa, gassosa, spray, sin azúcar, ma sàbri, ma sàbri. Ah, sì. Una combinazione a 2.8. Cosa, che era anche lo stesso. Ah sì, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri. Tienes il descuento. Cosa, hai che vedere se comprando singolarmente la gassosa te hace nel descuento. Perché dice, gassosa fanta, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri. Si, però io non llevo. Sì, però, io non llevo. Sì, però, anche, gassosa suè, pomelo, sin azúcar, ma sàbri, ma sàbri, ma sàbri. Hai che vedere, probabilmente no te... Uno tanto va alla propria che si tiene a casa di cima, e questa, che è meglio, noi la fumavamo. Sì. 2500, la gran gota. Ma... Però ora ho che andare così, perché non so se mi va alcanza. Sì, sì, ma non, ma a me non mi piace la H2O, ni nada. No, però per voi non, che sia per loro. No, no. Compravi per i ragazzi una bottiglia così. Sì. No. Esa, 1700. Esa de abajo. Esa è molto grande. E, bueno, la stai tomando grande. Esa le doy a Alberto, e questa per i ragazzi. E, bueno, però... Limoneto o citro? O citro? Estas dos. La cavano in seguida? In seguida, per un almuerzo. Ah, bueno. Tomen la pancita e toman un vaso. Bueno, bueno. Sì. A ver, 1008. Per i ragazziO? La ci 갈� ăto' dao? Ir otopare la suma con un vaso binnen興allorio? Per ier social? Que no gastes mucho. Per ier socials mi village? Un mille. Per ier social. Non. bene, poi vediamo perché ti chiedono più acqua saporizzata e hai che, hai che... fare la spesa fare la spesa fare la spesa andate, andate andate, andate andate, andate andate le scuole sacate il desconto aca questo dice congo, buisca andate 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 Sì, sì, anche io, io mi trattavo. Io non lo so, io mi trattavo. No, io non lo so, io mi trattavo. Non so se pensare... Ah, no, stanno attra di tutto. Allora, come va? Allora, come va? Allora, come va? Allora, come va? Oh, bebravissima. Beh, sembra che dei tanto, però spesso non è tanto. Come va Fabrizio? Tutto bene? Bene, grazie. Mirà! Ci sono tutti i alfajobini. Mirà, questo. Quanti siamo? Quanti siamo? No, non, stai. perché se ti sobra compramos qualcosa che volevi comprare non compro ma cosa ne fassi non, non, però contate aca non ho più più a quanto arriviamo? no, 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 no compro ma cosa ne fassi no, no, no compro ma cosa ne fassi no, no, però contate aca non ho più niente a quanto arriviamo? no, 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 no il carrito si si a usted si si vamos a guardar y acá se ve ya todo empacado 331 560 ah dices de la tarjeta de disco fabrizio puesto cual e italiano hola si y le diste la tarjeta de disco si muchas gracias gracias a ti chau querida bueno feliz domingo feliz domingo a rivederci abbiamo fatto tardi ma molto tardi vabbè con quello che non abbiamo preso medicinali in farmacia ci abbiamo fatto la stessa e adesso guardate che si è fatto notte a me non mi piace che si fanno si è fatto notte notte e buio pesto alla genovese si è fatto notte notte adesso devo aiutare mia madre a caricare la macchina quindi taglio questo video vi ho fatto vedere dal vivo senza interruzione come ho fatto la stessa arrivederci alla prossima ciao ciao si